Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti all'unboxing di LG Watch Urbane Mi sono un attimo confuso all'inizio perché sono riuscito a sbagliare subito l'accento della parola E E di solito non è un grande inizio per un unboxing Questa è la confezione di Watch Urbane che è arrivato da pochissimo anche sul Play Store Su Play Store costa 349€, noi l'abbiamo preso su eprice.it dove invece ne costa 329€ Quindi prezzo leggermente più contenuto già dal lancio La confezione è questo in cartone bianco, soltanto una considerazione Poi è al solito un po' chi se ne frega della confezione Però per un prodotto così elegante, fare la confezione così bianca Poi succede questo, che durante il trasporto diventa tutta macchie, piena di botte Insomma, forse sulla confezione si poteva fare qualcosa di più Per fortuna ho già dato una sbirciata, non resistevo Per fortuna aprendo la confezione invece tutto cambia Questo è il nostro Watch Urbane nella colorazione argento È presente anche una colorazione dorata, lo metto un attimo da parte Così guardiamo cosa c'è altro all'interno della confezione Qui abbiamo dei manuali Qui abbiamo cavo USB, micro USB e la base di ricarica Che sembra proprio esattamente la stessa DG Watch R Qua dentro non c'è altro Non sono riuscito a smontare tutto Va bene, va bene lo stesso E qui abbiamo un alimentatore da 0,85A Quindi più o meno lo stesso che troviamo anche su tutti i vari smartphone LG di fascia media Andiamo a prendere il nostro Watch Urbane Eccolo qua, avviciniamoci un pochino Allora, in realtà cambia quasi solo la versione di Android Wear preinstallata Che dovrebbe essere l'ultimissima appena rilasciata Che poi arriverà anche su altri appunto smartphone Cioè su tutti gli altri smartwatch Android Wear Per il resto più o meno l'hardware è lo stesso Cioè abbiamo un processore Snapdragon 400 Quad Core 1.2 GHz 4 GB di memoria interna 512 MB di RAM Chi se ne frega in realtà delle considerazioni prettamente hardware di un prodotto simile Certificato per resistere ad acqua e polvere IP67 Batteria da 410 mAh Parliamo del display Che ha un diametro di 320 pixel Quindi potremmo dire 320x320 Ma non è quadrato Quindi non lo diremo Da 1,3 pollice Spesso 10,9 mm Viene venduto direttamente con un cinturino in pelle da 22 mm Vedete come è scritto dall'indicazione qui Qui abbiamo un sensore di battito cardiaco Questo è l'aggancio per collegarlo alla base di ricarica Qui vedete tutti questi brutti artefatti Di cui è un po' pieno Ma in realtà solo perché Vedete sono presenti ancora un sacco di plastiche Che poi mi metterò a levare piano piano Comunque solo per dirvi che non ha difetti di costruzione Ma sono semplicemente tutte le plastiche Che con cui si trova addosso Sembra veramente un bel dispositivo Si capisce che è nato sulla base Di G Watch R Le forme sono più o meno quelle Ma sono decisamente più morbide Andiamo ad accenderlo Tenendo premuto sulla Finta ghiera qui Che serve appunto soltanto per accensione e spegnimento Ma poi in realtà anche procederanno impostazioni Faremo la recensione di questo LG Watch Urbane Nei prossimi giorni Quindi andate sul nostro forum Androidworld.it Slash forum Andate a cercare la sezione dedicata a LG Watch Urbane E noi risponderemo a tutti i vostri dubbi Nella recensione completa Per questo unboxing è tutto Un saluto da Emanuele Cisotti Per Androidworld.it